Il dottor Carlo Raggi, presidente della Dante Alighieri, Comitato della Spezia, venerdì presenterà il suo ultimo libro, Dall'illuminismo alla restaurazione, Vita di Angelo Dalmistro, 1754-1839, tra storia, filosofia e letteratura. Perché è un interesse per questo personaggio, in un certo senso, minore della letteratura italiana? Perché questo personaggio ha avuto la fortuna nella sua vita, rispetto a tanti altri che non l'hanno avuta, di incontrare per un breve periodo di tempo Ugo Foscolo, che è uno dei grandi maestri della letteratura italiana. La sua vita l'ha incrociata nella giovinezza, ha avuto un rapporto di discepolato in senso lato, perché gli ha fatto da mentore e infatti ha pubblicato per primo le poesie giovanili di Foscolo, è stato il suo primo editore. Da qui l'interesse di tutti gli storici della letteratura, di indagare la figura di Dalmistro, perché indagando la figura di Dalmistro si indaga anche la formazione di Ugo Foscolo. C'è anche poi un risvolto dantesco? Sì, questo è uno dei motivi secondari, perché naturalmente Angelo Dalmistro e Gasparo Gozzi, insieme ad altri intervalli del Settecento, riscoprono Dante. Inizia proprio nel Settecento, dopo, non dico un oblio, ma una discesa dell'interesse e della fortuna di Dante, perché non rientrava nel canone della poesia tipica petrarchesca, e quindi è il periodo in cui si riscopre Dante, che poi esploderà naturalmente con romanticismo. Quindi appuntamento con l'incontro della Dante Alighieri, venerdì alle ore 16.30, nella sala stampa della Fondazione Carispezia, in Via Chiodo. Ricordiamo che l'incontro è libero, aperto a tutti, fino ad esaurimento posti, ed è valido per i crediti formativi.